Confartigianato e Ministero della Gioventù per l'imprenditoria giovanile. Novità per le tasse nella bolletta elettrica delle piccole imprese. Da Bruxelles arrivano le nuove regole per gli installatori di impianti da rinnovabili. Artigianato, arte e cultura si incontrano all'Ario Fiere. Ben tornati all'appuntamento con il Tg di Confartigianato. Un'edizione particolare questa che ci rende orgogliosi del lavoro fatto in quest'anno. Infatti quella di questa settimana è la cinquantesima puntata del nostro Tg. Una scommessa vinta grazie al sostegno delle associazioni di Confartigianato e alla fiducia di chi, seguendoci, ha trasformato questo appuntamento in uno strumento di approfondimento delle notizie e delle novità e degli appuntamenti di tutto il sistema di Confartigianato. Grazie. Veniamo ora alle notizie, cercando di guardare sempre al futuro del Paese. In settimana, infatti, Confartigianato ha abbracciato il progetto del Ministero della Gioventù per la creazione di un portale dedicato all'imprenditoria giovanile e alle opportunità offerte dal mercato. Ce ne parla Fabrizio Cassieri. Il Ministro della Gioventù, Giorgia Meloni, ha presentato in settimana il nuovo portale dedicato all'imprenditoria giovanile. Un punto di raccordo unico dove trovare tutte le informazioni necessarie per avviare un'impresa, per conoscere i bandi nazionali aperti e dove scambiarsi notizie, consigli ed informazioni utili per i giovani che decidono di iniziare un proprio percorso imprenditoriale. Un progetto voluto e sostenuto anche dai movimenti giovanili delle principali organizzazioni datoriali italiane, Confartigianato in testa, da sempre attenta alle problematiche imprenditoriali giovanili. La scorsa settimana, infatti, Confartigianato ha diffuso un rapporto sull'emergenza a mano d'opera nell'artigianato, numeri che hanno conquistato spazi importanti sui mezzi di comunicazione del paese, ma soprattutto che hanno avuto il merito di porre l'attenzione sulle tante e troppe difficoltà lavorative incontrate da giovani in questo paese. Secondo il rapporto dell'Ufficio Studi di Confartigianato, infatti, il 27% del fabbisogno occupazionale delle imprese artigiane è rimasto scoperto. In altre parole, gli artigiani offrono lavoro, ma non ci sono giovani disposti a lavorare nelle loro imprese. L'elenco dei misteri artigiani a corto di mano d'opera è lungo, nonostante in Italia cresca il numero di giovani disoccupati, aumentati tra il 2008 e il 2010, di 216 mila persone. Eppure, il lavoro offerto dalle imprese è ben retribuito. Un apprendista artigiano, in media, guadagna quasi 800 euro, il 70% dello stipendio previsto per un contratto, ma soprattutto offre la possibilità di iniziare un percorso formativo qualificante, capace, in breve tempo, di permettere ai giovani di avviare una propria impresa. Ma oggi i giovani preferiscono rispondere al telefono di un call center, per 400 euro al mese. Dal 2012 sarà lo Stato, e non più le province, a incassare l'addizionale sui consumi di energia elettrica delle imprese. Si apre l'opportunità per cambiare un tributo che vale un miliardo di euro e che oggi pesa tutto sulle tasche dei piccoli imprenditori. Il servizio di Lorenza Manessi. Se le imprese italiane hanno il triste record europeo del costo più alto dell'energia, la colpa è anche del fisco, che nel nostro paese gonfia più che nel resto d'Europa il prezzo finale dell'elettricità. Le imprese italiane purtroppo pagano un costo dell'energia elettrica superiore agli altri competitor europei, quasi del 30%. Su questo costo aggravato incidono molto la fiscalità e le tasse, soprattutto per i bassi consumi, quindi quelli che fanno le piccole imprese. Basta dare un'occhiata alla bolletta elettrica. Tra le varie voci di prelievo fiscale, l'addizionale provinciale sull'energia è un tributo che pesa sulla fascia dei consumi fino a 200.000 kWh mensili. In pratica, quelli delle piccole e medie imprese, mentre le grandi aziende energivore ne sono esenti. Ora, il federalismo fiscale può dare una mano alla battaglia che con Fartigianato conduce da molti anni per riequilibrare il carico fiscale sui consumi di elettricità delle imprese. Il decreto sul federalismo, varato nei giorni scorsi dal governo, stabilisce che dal 2012 l'addizionale sull'energia verrà incassata dallo Stato e non più dalle province. Ma, soprattutto, lascia aperta la possibilità di cambiare la modalità con cui il tributo, che vale quasi un miliardo di gettito l'anno, è stato finora applicato. Questo trasferimento noi vorremmo che sia ripartito in maniera uguale a tutti i consumi e non penalizzando solo quelli dei piccoli imprenditori. Ora la palla passa al Ministero dell'Economia, che deve stabilire con un altro decreto come rimodulare l'addizionale sui consumi di energia. L'occasione è di quelle che non capitano spesso, modificare una tassa che oggi viene pagata esclusivamente dalle piccole imprese. Se, come chiede Confartigianato, la tassazione sarà applicata con maggiore equità su tutte le aziende, per artigiani e piccoli imprenditori il prelievo fiscale sui consumi di energia si ridurrà di bene il 66% e il risparmio sul conto finale della bolletta elettrica è assicurato. L'Unione Europea detta nuove regole per l'accesso alla professione di installatore di impianti di energia da fonti rinnovabili, prevedendo appositi percorsi formativi. Gli Stati membri potranno scegliere in autonomia tra un sistema di formazione volontaria e uno abilitante. Ancora incerta la scelta che farà il nostro Paese. Ivan de Menego Tempo a pochi giorni per sapere se gli installatori di tecnologie verdi potranno continuare a svolgere liberamente la propria professione oppure se saranno obbligati a tornare sui banchi di scuola per corsi di qualificazione obbligatoria. Il filo della speranza è rappresentato dai contenuti del decreto con cui il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà recepire entro l'anno la direttiva dell'Unione Europea relativa alla promozione dell'uso delle energie rinnovabili. Contenuti del provvedimento che sono ancora immersi nel buio. A tutt'oggi infatti del testo non circolano neppure le bozze. Chiara e definita al contrario è la direttiva di Bruxelles che prevede che entro due anni ogni Stato membro metta a disposizione degli installatori di impianti di energia da rinnovabili e dei sistemi di certificazione o di qualificazione. Tra le due opzioni c'è una grande differenza. Certificazione significa un sistema volontario. In sostanza se non si vuole aderire si può continuare a lavorare lo stesso. Discorso diverso per la qualificazione che prevede un percorso abilitativo obbligatorio con successivi corsi di formazione. Senza l'abilitazione la serranda resta abbassata. Una scelta che l'Unione Europea demanda agli Stati membri. Il nostro Paese non si è ancora pronunciato ma lo farà probabilmente nei prossimi giorni. Per confartigianato è da scartare l'ipotesi di nuovi paletti che limitino l'attività degli installatori di impianti. Quindi no ad abilitazione albo professionale perché la qualificazione delle imprese impiantistiche è già regolata dalla norma di settore, il decreto ministeriale 37. Viceversa, giudizio favorevole a corsi specialistici ma solo su base volontaria. Se la scelta tra i due percorsi resta il nodo principale della questione ce n'è anche un secondo da sciogliere, non di poco conto, riguarda la competenza della formazione che potrebbe essere assunta in via esclusiva dall'Ente Nazionale Energia e Ambiente. In particolare potrebbe dipendere dall'Enea la certificazione dei formatori. Una previsione che non piace a Confartigianato che dietro la scelta vede profilarsi l'ombra di un possibile monopolo. Per la Confederazione invece è auspicabile che l'Agenzia sia terza parte nella valutazione dei contenuti formativi dei corsi. Chiudiamo questa puntata con la 37esima edizione della Mostra Mercato dell'Artigianato organizzata dalle associazioni di Lecco e Como per rilanciare il meglio della produzione artigiana locale. Una settimana di mostre, eventi culturali e rassegne artistiche. I dettagli nel servizio di Fabrizio Cassieri. Arte e cultura, letteratura ed imprese insieme per la 37esima edizione della Mostra Mercato dell'Artigianato organizzata dalle associazioni di Come e di Lecco. 201 gli espositori presenti, 6.000 e metri quadri che hanno ospitato le tante eccellenze in vetrina. Dall'artigianato artistico all'installazione di infissi e serramenti, dall'alimentare al tessile, tutti i protagonisti di quel Made in Italy che Confartigianato tutela dall'invasione di copie, falsi e sciagurati tentativi di contraffazione. La Mostra Mercato dell'Artigianato è stata anche questo, uno spot per il Made in Italy. Con un testimonial d'eccezione, Mario Schifano, il padre della pop art italiana, autore delle 17 opere in mostra all'aerofiere ed evento di punta dei tanti momenti culturali inseriti nel programma della rassegna dalle associazioni di Come e di Lecco. La settimana dell'Artigianato Lombardo è stata anche l'occasione giusta per lanciare un video promozionale dell'artigianato locale, in particolare del tessile, un patrimonio per questa terra. Il video, due minuti e mezzo da gustarsi tutto d'un fiato, mostra il lavoro che si nasconde dietro alla creazione di una cravatta Made in Italy, la cura nella scelta del tessuto, nel taglio e nelle professionalità impiegate per creare un pezzo unico dell'eccellenza italiana, un lavoro che non può essere replicato. La Spezia dall'8 novembre Sistri parte la formazione per le imprese Confartigianato Provinciale organizza corsi sul nuovo sistema di gestione dei rifiuti. Genova 11 novembre seconda edizione di Cioccolato a Palazzo appuntamento dedicato alla promozione del marchio Artigiani in Liguria. Asti 11 novembre Edilizia e metalmeccanica Ai Raggi X Presentazione di un sondaggio sullo stato dell'economia locale Ravenna fino al 14 novembre La ceramica tra Faenza e Ravenna Mostra mercato di opere in stile tradizionale e contemporaneo Treviso fino al 30 novembre Alvia i bandi per lo start-up d'impresa Servizi e sostegno economico per chi vuole avviare un'attività indipendente. Siamo in chiusura e come sempre la nostra rubrica Il numero della settimana a cura dell'ufficio studi di Confartigianato 120,8 Sono i milioni di ore di cassa integrazione in deroga utilizzate dall'artigianato tra gennaio e settembre 2010 Bene, ci vediamo lunedì prossimo come al solito sul sito di Confartigianato Buona settimana e buon lavoro! Grazie a tutti! 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 Grazie.